Cosa hanno in comune un concerto d'annunzio e le auto d'epoca? Hanno in comune il culto della bellezza e per la passione che hanno vissuto nello stesso periodo storico. Il 1 agosto ci sarà la terza tappa, ovvero il terzo anno consecutivo di una manifestazione. Come si svolgerà e soprattutto qual è la sua importanza? Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 1 agosto a partire con un'esposizione di auto d'epoca che sarà selezionata accuratamente da una giuria ASI e una conferenza di Francesco Nuvolari, nipote di Tazzi Nuvolari, su d'annunzio la bellezza e la velocità. A seguire, quando calano le luci della sera, ci sarà un concerto di musica sinfonica con l'orchestra dei sinfonici Elena D'Angelo e Umberto Scida. Quale sarà la location pensata per questa esposizione? Non può non essere la meravigliosa Villa Filiani a Pineto, illuminata a regola d'arte.